e qua come vedete ragazzi mi fa anche una stima di quando questi soldi saranno creditati sul mio conto personale di Paypal come vedete ragazzi tra 17 ore avrò guadagnato questa moneta chiamata Xcash non si va solo a guadagnare grazie a queste estrazioni di numeri automatici gratuiti ma si va a guadagnare in modo automatico anche solamente andando a installare questa applicazione che è stata completamente riaggiornata guardate qua ottieni Xcash automaticamente qua ragazzi come vedete li sto guadagnando in modo automatico e andranno poi messi qua in alto dove c'è scritto il mio saldo dove attualmente ho 2.359.000 Xcash che potrò convertire nella mia valuta ok in euro lo posso convertire anche in dollari e si possono prelevare direttamente sul nostro conto personale di Paypal questa è una nuova applicazione aggiornata chiamata Super Lozzi applicazione che ti fa guadagnare soldi in modo automatico adesso andiamo a vedere come funziona ma prima di tutto che cos'è Super Lozzi? è un'applicazione che si può scaricare tramite lo smartphone l'è presente nei vari store vi lascio poi il link qui sotto in descrizione del video una volta che l'avete installata questa applicazione qua se gli date il consenso di accedere al vostro smartphone lui automaticamente vi farà guadagnare Xcash questa nuova valuta creata appositamente solo per Super Lozzi in più che cosa fa ragazzi? oltre a farvi guadagnare automaticamente questi Xcash senza fare praticamente nulla anche tenendo spento lo smartphone avrete la possibilità di ricevere mentre state utilizzando il vostro smartphone dei numeri casuali questi numeri praticamente andranno tutti accumulati nel vostro bilancio andranno a formare una combinazione di numeri ogni giorno, ogni due o tre giorni ci sarà sempre un'estrazione che vi permetterà di guadagnare Xcash questi Xcash si possono convertire o in soldi oppure li possiamo convertire nuovamente in nuovi numeri quindi in nuove combinazioni di numeri per partecipare ai vari eventi, alle varie lotterie quindi andare a vincere poi sempre più Xcash ma andiamo a vedere come funziona allora ragazzi una volta che l'avete installata ok, vi troverete davanti alla schermata principale qua come vedete io intanto dove c'è scritto saldo Xcash di Felix 2.0 attualmente ho più di 2 milioni di Xcash che sto guadagnando in modo automatico e adesso vi faccio vedere come andare ad attivare questa opzione qui quindi una volta che avete installato Super Lozzi nel vostro smartphone una volta effettuato l'accesso una volta che vi siete registrati andate in Fantasy qua nella destra e andate in fondo alla pagina ragazzi qua dove c'è scritto ottieni Xcash automaticamente ci premete sopra se andate ad attivare questa opzione qua automaticamente andrete ad ottenere dei Xcash che come vi ho detto andranno poi accumulati nel vostro saldo ok, come vedete io automaticamente li sto guadagnando senza fare praticamente più nulla in più cosa potete fare? per ottenere ulteriori Xcash potete andare sempre in fondo alla pagina dove c'è scritto ottieni confezioni regalo casuali che cosa succede qua ragazzi? se noi andiamo a dare a Xcash il permesso di monitorare il nostro smartphone ok, non succede nulla ragazzi, state tranquilli che cosa succede? se io esco dall'applicazione ragazzi ogni volta che faccio questa azione qua se vado ad utilizzare un'app che ho all'interno del mio smartphone ed esco dall'applicazione automaticamente si aprirà questa pagina qua come vedete ottieni 17 confezioni regalo a caso quindi ci vado a premere sopra sono praticamente soldi solo Xcash questi qua che possiamo convertire come vi ho detto o in combinazioni di numeri che saranno poi estratti ogni giorno dopo andiamo a vedere questa lotteria e cosa si va a vincere oppure li possiamo convertire dopo lo andiamo a vedere nelle nostre valute quindi o in euro o in dollari o in altre valute da poter poi prelevare una volta convertiti in soldi veri sul nostro conto personale di Paypal quindi apri le confezioni regalo come vedete mi ha dato 17 confezioni regalo ne apriamo una come vedete sto guadagnando praticamente Xcash ma come mai questa applicazione ci sta pagando? perché come vedete al suo interno ci sono le pubblicità quindi che cosa succede? ci sono veramente un sacco di applicazioni nell'App Store e nel Play Store di Android e ogni tanto quando le utilizziamo ci fanno vedere le pubblicità quelle applicazioni lì non vi pagano per questo quindi voi praticamente state giocando state utilizzando le applicazioni ma non vi pagano solo loro che ci guadagnano invece con Super Lozzi e con altre applicazioni che trovate poi nel mio canale di Youtube iscrivetevi, attivate la campanellina li trovate poi anche nel mio secondo canale di Youtube chiamato Felix 2.0 dove parlo di applicazioni che fanno guadagnare soldi su Paypal e buoni regalo Amazon e ho creato anche un terzo canale chiamato Felix 3.0 dove parlo di applicazioni che fanno guadagnare criptomonete gratis come vedete ho acquisito 143 Xcash ok dopo andiamo a vedere come convertire questi Xcash quindi andiamo a aprire ancora guardate quanti Xcash ho guadagnando automaticamente senza fare nulla ok solo perché all'interno ci sono le pubblicità che faranno guadagnare chi ha creato l'applicazione e chi ha creato l'applicazione darà una percentuale a noi che stiamo utilizzando la sua applicazione quindi ovviamente lui ci guadagnerà di più noi guadagneremo una piccola percentuale come vedete una volta che abbiamo aperto tutte le scatole regalo che ci compariranno sempre se noi abbiamo dato il consenso a Super Lozzi di monitorare il nostro smartphone e una volta che abbiamo visto tutte le pubblicità come vedete io attualmente ho guadagnato più di 2000 Xcash ok ragazzi quindi controlli il saldo Xcash e come vedete il mio saldo è aumentato adesso ho più di 2.364.000 Xcash quindi è molto semplice come applicazione ti permette di guadagnare ripeto in automatico una volta installata è andata nel fantasy è andata ad impostare le due opzioni che ti faranno guadagnare Xcash ok quindi ottieni Xcash automaticamente lo andate praticamente ad attivare e automaticamente senza neanche utilizzare l'applicazione vi farà guadagnare Xcash oppure potete andare a accendere questa opzione qua dove praticamente andando ad utilizzare altre app del tuo smartphone ogni tanto ti comparirà quella pagina che avete visto prima dove andrai ad ottenere delle scatole regalo ok che ti daranno sempre Xcash ripeto che tutti questi guadagni queste piccole percentuali di soldi che andremo a guadagnare provengono proprio da superlozzi quindi loro ci guadagnano e ci danno una piccola percentuale a noi cosa possiamo fare con questi Xcash? adesso andiamo a vedere come o andarle a convertire in combinazioni di numeri ok che saranno poi messi tutti qua dove c'è scritto prossima istrazione che sarà tenuta il 27 dicembre 2022 quindi domani quindi se ne andiamo a convertire Xcash in combinazione di numeri abbiamo la possibilità una volta che c'è stata l'estrazione di guadagnare ulteriori Xcash ok ragazzi quindi ulteriori soldi oppure li possiamo convertire nella nostra valuta che sarà poi euro ma come facciamo? quindi ritorniamo nella pagina principale Xcash e andiamo dove c'è scritto converti ci andiamo a premere sopra come vedete intanto all'interno dell'applicazione ci sono le pubblicità ok loro ci stanno guadagnando attualmente come facciamo nel convertire questi Xcash basta andare qui sotto ragazzi dove c'è scritto Xcash li possiamo convertire come vi ho detto o in dollari o in euro o in altre valute oppure in combinazioni di numeri come vi ho detto per partecipare poi all'estrazione che ci sarà ogni giorno quindi vado su premere su applica come vedete se vado a convertire un milione di Xcash che ho nel mio bilancio mi darà praticamente 4000 combinazioni di numeri che serviranno per l'estrazione finale oppure possiamo andare a convertire in euro applica come vedete gli Xcash un milione di Xcash equivalgono a 94 centesimi di euro io li vado a convertire in dollari ragazzi come vedete un milione di Xcash equivalgono a un dollaro quindi anche qua sotto andrete a leggere il tasso di conversione di Xcash basterà poi premere su converti andiamo a convertire un milione di Xcash in dollari ok e come vedete la conversione è stata completata andiamo a visualizzare la cronologia della conversione e come vedete adesso ho convertito un altro milione di Xcash guadagnato automaticamente senza fare nulla in soldi veri come faccio ragazzi a prelevare questi soldi basterà andare su il mio stato patrimoniale andare in fondo alla pagina come vedete e andare a premere sui cash sui soldi una volta fatto basterà andare a premere su prelievo e come vedete io attualmente ho 10 dollari all'interno di Super Lozzi e posso andare ad impostare ovviamente il prelievo minimo che sono 10 dollari quindi 10 dollari fatto Paypal si prende una commissione del 23% su questi 10 dollari c'è anche scritto quindi molto trasparente anche come applicazione e poi anche serie pagante questa app e posso continuare e andare a prelevare sul mio conto personale di Paypal qua ci farà mettere la nostra email di Paypal e qua come vedete ragazzi mi fa anche una stima di quando questi soldi saranno creditati sul mio conto personale di Paypal fatta la richiesta il 26 dicembre del 2022 una data prevista presunta di deposito sarà il 15 gennaio 2023 quindi almeno 20 giorni lavorativi ci vorranno per ottenere questi soldi nel nostro conto personale di Paypal soldi guadagnati in modo completamente gratuito prima di tutto ragazzi grazie alle pubblicità e guadagnati anche in modo automatico grazie alle varie opzioni che ci sono su Super Lozzi per guadagnare X Cash in modo automatico infatti vi voglio fare vedere un attimo la cronologia dei miei prelievi ho fatto una richiesta di prelievo il 28 maggio del 2022 e mi sono stato accreditati il 15 giugno 2022 attualmente ho fatto la richiesta e se vuoi rimanere aggiornato sulla prova di pagamento di Super Lozzi che mi sarà depositata il 15 gennaio 2023 iscriviti al canale Telegram ti lascio il link qui sotto in descrizione per ottenere tutte le varie prove di pagamento di tutte queste applicazioni qua ebbene ragazzi per oggi è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati su altre applicazioni come queste che ti permettono di guadagnare soldi in automatico noi ci vediamo nel prossimo video ciao da Felix ciao